Belsito Hotel Le Due Turri A mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari www.belsitohoteldueturri.it 8 marzo, giornata mondiale delle donne e proprio in occasione di questo giorno importante la Casa di Cura Villa Ester di Avellino ha voluto dedicare una giornata di consulenze gratuite per la salute femminile come ha spiegato ai nostri microfoni Ennio Pericolo direttore della Casa di Cura Villa Ester Questo è il terzo anno che rappresentiamo come struttura la donna in assoluto Abbiamo 12 ambulatori Abbiamo circa 562 prenotazioni per tutta la giornata quindi abbiamo iniziato alle 8 stamattina per completare la giornata alle 8 di questa sera Siamo molto attenti, diciamo, in generale al sociale Spero che seguiranno altre manifestazioni ovviamente non per la donna ma spero per il papà breve Questa è una struttura d'eccellenza, questa è una struttura che fa qualità Fortunatamente abbiamo circa 800 prenotati per un intervento chirurgico Abbiamo degli ambulatori pieni Abbiamo un'ortopedia che fa numeri e che fa alta qualità Siamo una struttura che l'anno scorso è stata premiata dalla Regione Campania per aver fatto il numero più importante di impianti protesici come rapporto post-iletto impianti realizzati La prevenzione, lo sappiamo bene, è fondamentale Iniziative come questa hanno l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza a voler bene alla propria salute come evidenzia il direttore sanitario della Casa di Cura Villa Ester, Luigi Monaco E proprio per cercare di soddisfare tutto ciò che può aiutare la donna nell'ambito sanitario abbiamo messo a disposizione tutti i nostri ambulatori con visite gratuite La ginecologia, certamente, con la visita e il pap test così come l'ambulatorio di proctologia e, ove necessario, fruiremo anche di un emocult test per il sangue occulto così come la MOC per la mineralometria e la visita ortopedica e poi ambulatori per il diabete per la medicina estetica con il chirurgo plastico e anche per chi vuole conoscere una medicina alternativa con il nutrizionista, con fitoterapia e medicina omiopatica